Sottoscritta con la provincia la convenzione per l'assunzione presso l'ospedale di Foggia entro il 30 aprile del 2019 di 67 persone attraverso le modalità relative agli inserimenti lavorativi destinati a persone con handicap di particolare gravità. Secondo il delegato provinciale per il lavoro Giuseppe Mangiacotti tutto questo grazie all'impegno della dirigenza degli ospedali riuniti di Foggia, al sostegno del presidente della provincia Francesco Miglio e alla collaborazione dei dirigenti e funzionari dell'amministrazione provinciale. Al termine di un complesso iter-amministrativo che ha permesso di raggiungere un importante risultato abbiamo messo fine, continua Mangiacotti, ad una situazione che non era più tollerabile per la tutela dei diritti delle categorie protette. Si tratta finalmente di dare piena attuazione ai principi previsti dalla legge 68 del 1999 riguardanti le norme per il diritto al lavoro dei diversamente abili, ma soprattutto si tratta di un primo passo verso lo sblocco di una situazione di stallo anche nei lavori della Commissione Provinciale del Lavoro che di fatto manteneva bloccate le opportunità di lavoro per le categorie protette. Alla firma della convenzione erano presenti per gli ospedali riuniti il direttore generale Vitangelo Dattoli e il direttore amministrativo Michele Ametta, mentre per la provincia, oltre al delegato e presidente della CPL Giuseppe Mangiacotti, anche il dirigente del settore politiche del lavoro Giovanni Dattoli, assistito da Giuseppe Ferrarelli e da Katia Patricelli.